Kylie Jenner è incinta, aspetta un figlio da Travis Scott Kylie Jenner, la sorella minore di Kim Kardashian aspetterebbe il primo figlio dal suo fidanzato Travis Scott. Stando ai gossip dall'estero, la diva di Instagram avrebbe mostrato un pancino sospetto Lei, intanto, continua a pubblicare scatti su Instagram del passato o che talvolta la mostrano in corsetti che stringono e nascondono. La notizia è stata confermata da People, nel frattempo però la Jenner tace anche se si aspetta l'annuncio ufficiale Le critiche su Kylie Jenner. In passato, Kylie Jenner è stato oggetto di numerose critiche. Tra tante, ricordiamo benissimo una delle più recenti in riferimento ad una foto pubblicata proprio su Instagram dalla modella appartenente a una delle famiglie più ricche d'America In questa foto, una cicatrice sospetto appariva sul fondoschiena In molti, hanno avanzato molti dubbi circa la reale fattura del suo di dietro ma la circostanza è stata chiarita, la modella infatti non è finita sotto i ferri ma ha fatto solo un nuovo tettaugio L'inchiostro di fatti è rosso, Before Saniti che è scritto. Sul fondoschiena già appariva la scritta Saniti, ma la modella ha deciso di aggiungere anche Before. Mistero svelato, critica accantonata Il seno abbondante sembra essere aumentato di recente. Anche per questo, la bella Jenner è stata oggetto di critiche sui social, che l'hanno si premiata con 159 mila like sulla foto ma non le hanno risparmiato il solito commentino isterico, sei rifatta? L'ultimo dei pensieri di Kylie Jenner è rispondere ai suo tantissimi ater L'ultimo dei pensieri di Kylie Jenner è rispondere ai suoi